come acquistare una card un giocatore all'interno di sorar tutorial in italiano completo passo passo di nft italia tutorial ufficiale benvenuti in un nuovo video benvenuti da nft italia oggi continuiamo ad andare avanti con la playlist con la rubrica dedicata sorar oggi vedremo come poter acquistare le card all'interno di sorar quindi vi guideremo passo passo all'acquisto di una card in quanto molti di voi hanno avuto difficoltà da questo punto di vista soprattutto tutti gli utenti inesperti che si sono appassionati al mondo di sorar soprattutto perché rispecchia un po il sogno di ogni persona di ogni italiano quello di allenare o di essere il presidente di una squadra di calcio e quindi un po come un fantacalcio o football manager ma con soldi reali e con guadagni estremamente importanti se sei bravo naturalmente i nostri non vogliono essere né consigli finanziari né noi siamo consulenti finanziari quindi questo sarà solo un tutorial una guida per farvi capire dal punto di vista tecnico come effettuare appunto un acquisto quindi passeremo all'interno di questa video di questa guida dal deposito fino all'acquisto di un giocatore seguiteci con attenzione e poi naturalmente se il video vi è piaciuto lasciate un bel like iniziamo da quello che è il deposito quello che noi dobbiamo fare è cliccare qui in alto nel wallet quindi nel portafoglio e abbiamo diverse tipologie che possono variare nel corso del tempo la prima è moon pay un pay è molto interessante in quanto ci dà la possibilità di depositare pagando con carta per esempio o con bonifico all'interno di sorar quindi ci dà la possibilità di avere questo bridge tra la nostra carta e sorar acquistando ethereum che comunque è la criptomoneta che si utilizza all'interno di sorar per poter acquistare le card questo cosa vuol dire vuol dire che anche se io non ho un wallet ufficiale quindi non non ho un posto dove detengo le mie criptomonete non ho magari nemmeno criptomonete comunque posso acquistare all'interno di sorar passando da moon pay immaginiamo per esempio di voler comprare 100 euro di ethereum ok il prezzo di ethereum attuale mi dice moon pay che è 2973 euro e in questo caso riceverò 0,03 ethereum le commissioni di elaborazione in base al metodo di pagamento sono a partire da 3 euro e 99 ok e in totale io andrò a spendere 100 euro ora quello che devo fare naturalmente in questo caso è cliccare su continua inserire una mail e io adesso andrò a inserire per esempio una mail random quindi email chiocciola email punti ok solo per farvi vedere e poi a un certo punto in dovrò inserire il codice di verifica che ricevo via mail ora io qua devo accettare i termini e condizioni devo scegliere se voglio andare naturalmente all'interno e ricevere all'interno della mia mail delle delle notizie delle offerte esclusive da moon pay se non voglio non sono obbligato solo questo sono obbligato ad accettare quindi prendo il mio codice lo inserisco qui io adesso rifarò la procedura naturalmente con la con la mia email in modo tale che per poi se non mi mostro in modo tale che posso andare avanti così vi faccio vedere come bisogna procedere appunto con moon pay fatto questo nella schermata successiva devo inserire i miei dati attenzione fino a 314 324 euro ora non ricordo bene non c'è bisogno di fare il kyc quindi non dovete verificare l'account con moon pay e di conseguenza non dovete inviare i vostri documenti l'unica cosa che dovete fare però inserire i vostri dati e qui vi consiglio di inserire i dati corretti quindi mettere il vostro nome il vostro cognome la data di nascita e la nazionalità successivamente devo inserire i dati dell'indirizzo quindi via civico cap moon pay si prenderà massimo 60 secondi per verificare se è tutto ok e poi andrà avanti all'interno di questa schermata ho la possibilità o di pagare con carta di credito quindi devo verificare l'indirizzo clicco su continuo e metto il numero della carta la data di scadenza il codice di sicurezza effetto il pagamento e quindi è una cosa abbastanza veloce oppure effetto bonifico e quindi quello che andrò a fare è inserire l'iban ok dove andrò da dove andrà a fare il bonifico clicco poi su continua e mi usciranno i dati di moon pay che devo naturalmente utilizzare per effettuare questo bonifico fatto questo io mi ritroverò con l'iban in questo caso il bonifico ad aspettare attendere i giorni prima che arrivi prima che arrivi per quanto riguarda invece la carta di credito mi troverò subito i fondi e quindi poi posso acquistare una volta che abbiamo effettuato il pagamento ci ritroveremo il totale qui nel bilancio nel wallet poi abbiamo la possibilità di trasferire fondi tramite carta di del di credito o bonifico bancario attraverso l'app quindi se non ci troviamo bene con moon pay vogliamo utilizzare un altro servizio ecco che lo possiamo fare in questa maniera in questo caso io pagherò 100 euro riceverò in ethereum e quindi di conseguenza che cosa faccio clicco su procedi e qui devo andare anche in questo caso inserire tutti i dati procedere nella maniera classica non ve lo faccio vedere perché abbastanza semplice e una volta fatto questo io mi ritroverò dopo che ho effettuato il pagamento o con bonifico o con carta con i fondi all'interno del mio wallet l'altra opzione invece quella più utilizzata in assoluto che è collegare il wallet in questo caso specifico il wallet che possiamo collegare e metamask ora io che ho cliccato su collega il mio wallet probabilmente voi non lo vedete qui in sovrimpressione ma mi è apparso la l'applicazione di metamask ok quindi l'estensione di metamask dove c'è la rete di ethereum di metamask devo cliccare semplicemente su avanti e una volta fatto questo devo cliccare su connetti ed essenzialmente fatto questo mi dice ok il wallet è vuoto perché abbiamo utilizzato un wallet dove non ci sono in questo momento fondi attenzione però nel caso in cui ci fossero stati fondi qui mi diceva il controvalore naturalmente in euro dei miei ethereum che ho all'interno del wallet di metamask se non sapete come creare un wallet metamask abbiamo realizzato un mega tutorial dove spieghiamo dall'a alla z come funziona metamask e come depositare ethereum all'interno di metamask essenzialmente quello che voi dovreste fare ve lo spiego qui al volo è avere un change tipo crypto.com tipo binance che abbiamo già portato sul canale tra l'altro per quanto riguarda gli nft quindi vi potete registrare da link in basso in basso trovate un po di link referral dei vari exchange grazie a quei link referral nostri avete anche dei bonus di benvenuto per esempio comprate ethereum su binance o su crypto.com lo inviate al wallet di metamask quindi all'indirizzo di metamask e fatto questo connettendolo in questa maniera vi ritroverete i fondi all'interno del wallet quindi ci sono questi tre modi per poter depositare una volta fatto questo siamo pronti per acquistare una card giocatore all'interno di sorar quindi noi abbiamo due opportunità su sorar la prima è andare nelle aste per le nuove card che vengono messe direttamente in vendita da sorar e quindi qui l'unica cosa che noi possiamo fare è andare a effettuare un offerto ok vedete come qui stanno per fare offerte vedete come mano a mano ci sono offerte oppure c'è chi ha ottenuto praticamente quella determinata card quindi io vado naturalmente non quelle che terminano a breve ma aggiunte di recente così posso avere il tempo di spiegarvi un po come funziona qui mi ritrovo un prezzo di partenza che 2 euro e 66 che non per forza perché qua già ci sono sette offerte ok quello che devo fare io in questo caso è cliccare su fare un offerta ora naturalmente cosa succede che in questo caso è di 2 euro e 66 e in automatico mi mette il prezzo minimo di offerta che io posso andare a fare posso decidere anche di pagare o in ethereum ok se ce l'ho e quindi fare un offerto in ethereum in questo caso mi dice di inserire la password io non inserisco ma non lo faccio in quanto poi essenzialmente non avendo credito all'interno del wallet non va da nessuna parte oppure pagare con carta di credito quindi in questo caso io devo aggiungere una carta di credito cliccando qui quindi inserisco il numero della carta la scadenza e il cvc posso anche fare direttamente in questa maniera ed è powered by stripe quindi effetto il pagamento direttamente con stripe e qui naturalmente piazzo la mia bid e la mia offerta naturalmente se viene superata io devo stare attento per continuare ad offrire e questo è il primo metodo che noi possiamo utilizzare in linea generale su sorar non solo per quanto riguarda il fatto delle nuove carte che vengono messe in asta direttamente da sorar ma in generale quando ci sono le aste funziona in questa maniera quindi una classica asta un po come si fa su ebay chi all'ultimo offre di più si prende il giocatore quindi acquista il giocatore e paga quella somma voglio farvi vedere anche il mercato del catalogo manager cioè altri manager che hanno messo in vendita player all'interno di sorar in questo caso specifico come potete vedere abbiamo la possibilità di acquistare direttamente questi giocatori quindi io se clicco su acquista lo posso comprare a 5 euro e 61 e quindi posso decidere sempre di pagare in ethereum o di pagare con la carta ho una commissione sulla carta di credito che di 0,57 centesimi di euro e quindi in totale io pagherei 6 euro e 18 ok quindi niente di trascendentare tra l'altro dovrei poter vedere qui un po tutti quelli che sono i filtri in modo tale che se voglio andare a comprare giocatori specifici ok perché magari voglio solamente carte rare voglio solamente carte uniche oppure voglio giocatori che fanno parte di una determinata lega e così via lo posso fare direttamente andando a filtrare un po il tutto oppure posso anche andare a scegliere il prezzo quindi se ho un range di prezzo che mi interessa mantenere perché magari un budget che va da 4 euro a 50 euro io l'ho imposto in questa maniera e so se ci sono carte in quest'ottica da 40 da 4 a 50 euro che posso comprare per esempio nelle carte rare poi nella sezione invece mercato abbiamo i pacchetti giocatori che sono dei pacchetti di giocatori che noi possiamo acquistare che generalmente fanno parte della stessa squadra sono 5 giocatori e vi faccio vedere per esempio questo abbiamo la possibilità di fare un'offerta l'ultima offerta è stata di 598 euro se io voglio fare un'offerta la devo fare per forza di 6,58 abbiamo Carlo Pinzoglio che è il terzo portiere della Juve Federico Chiesa che in questo momento è infortunato ma sarebbe un ottimo acquisto in ottica futura Quadrato che è un titolare della Juve Delict che è un titolare della Juve Descio che gioca e non gioca ora qual è il vantaggio di comprare i pacchetti giocatori? il vantaggio è che comunque vai a risparmiare i suoi 5 giocatori lo svantaggio però in questo caso specifico che stai comprando Carlo Pinzoglio che non avresti mai comprato perché non giocherà mai nella Juventus titolare Federico Chiesa che in questo momento è infortunato però può essere un buon investimento in ottica futura un giocatore di 33 anni come Quadrato che avrà massimo 2-3 anni di carriera poi gli auguriamo di più e Descio che non è un titolarissimo quindi di questi qui alla fine tu stai prendendo Delict che è un super titolare Quadrato che adesso gioca Descio quando gioca è Chiesa che devi attendere qua per esempio ne abbiamo un altro di 549 e questo già inizia a essere più interessante perché abbiamo Di Bala, Morata, Delict e Bonucci che sono dei titolari Pinzoglio che non gioca però Di Bala probabilmente se ne andrà dalla Juventus senza probabilmente quindi sono sempre da analizzare questi pacchetti giocatori sia per l'età dei giocatori sia per il prezzo che tu vuoi pagare per esempio questo abbiamo Selemekers che non è un titolarissimo però ha 22 anni Teo Hernandez titolarissimo che sì che l'anno prossimo va al Barcellona che ha lui un titolare e Ballo che comunque ha 24 anni ecco questo potrebbe essere un ottimo acquisto perché sono tutti giovani e comunque potrebbe essere un buon investimento per il futuro naturalmente dobbiamo anche vedere singolarmente sul mercato quanto costano anche qui in questa sezione del manager per capire se poi conviene comprarli a parte singolarmente oppure tutti quanti insieme per poter visionare poi i giocatori che abbiamo in squadra ci basterà andare nella sezione Il Mio Club e nella sezione Le Mie Card quindi possiamo vedere tutte le card che abbiamo a disposizione tra cui quelle acquistate con questo tutorial abbiamo terminato ci vediamo in un prossimo video ciao e a presto